Su alcuni asset finanziari ci sono dei veri e propri livelli trigger, livelli superati i quali stampa ed operatori immediatamente e in maniera generalizzata tornano ad allarmarsi. È il caso dei nostri BTP o meglio dei rendimenti dei nostri BTP. 4,5-4,6% sembra essere proprio quel livello trigger di cui vi parlavo pochi secondi fa. Stampa ed operatori iniziano ad allarmarsi superati tali livelli. È proprio così o meglio torna ad esserci un focus di allarme sui nostri titoli di Stato? Voglio cercare in questo breve video di fare un piccolo esame generale del settore obbligazionario, non soltanto italiano, tornerò su di esso ovviamente anche perché appunto forse alcune voci sono poco fondate. Mettiamola così. Il 2022 è stato definito l'annus horribilis per quanto riguarda soprattutto il mercato obbligazionario globale. Piccola premessa perché voglio farvi vedere sia quelle che sono state le performance sul T-Note e sul Bund. Tra l'altro su quest'ultimo trovate un mio ulteriore contributo pubblicato alcune settimane fa sul nostro canale YouTube, piuttosto interessante a mio avviso, e che tra l'altro fornirà al sottoscritto ulteriori spunti di riflessione proprio per l'inizio del 2023 e non solo. Andiamo a vedere sui derivati, sui fuser, che cosa hanno fatto e che performance hanno ottenuto sia T-Note che Bund e anche il nostro BTP. Partiamo dal benchmark di riferimento statunitense che nell'estensione massimo minimo di questo 2022 ha visto una performance del meno 16% circa. Peggio affatto il Bund con oltre 20 punti percentuali di perdita e ancora una volta fanalino di coda il nostro BTP che ha perso circa 25 punti percentuali. Potete ritrovare questi grafici su qualsiasi piattaforma di analisi grafica sul web. L'anno Sorribilis, come vi dicevo prima, è stato definito così anche in particolare perché i Bund non hanno fornito alcuna protezione, alcuna copertura per quanto riguarda l'altro settore equity che ha sofferto particolarmente durante questi ultimi 12 mesi. Performance negativa quindi sull'equity, performance negativa anche sui bond. Ma torniamo a quello che è il nostro BTP o meglio facciamo anche un'ulteriore puntualizzazione perché la colpa delle colpe è delle banche centrali che hanno visto in questo 2022 un'inversione a U di politica monetaria da super accomodante a super restrittiva e proseguirà il tutto anche nel 2023. Ma se ci concentriamo sul settore europeo abbiamo visto una super hawkish Christine Lagarde nell'ultima riunione della BCE e quindi ancora una volta capite che per quanto concerne i nostri BTP dobbiamo stare un po' con le antenne dritte. Quali sono le variabili comunque sia che scontano i nostri titoli di Stato e che dobbiamo comunque sia cercare sempre di valutare. Chiaramente il debito monster dell'Italia, l'outlook di crescita in questo caso del 2023 e poi soprattutto io la chiamo così la variabile pazza della politica made in Italy la quale specialmente per gli esponenti di destra, estrema destra mettetela un po' come vi pare diciamo che periodicamente tornano a suonare la carica contro la banca centrale. Dimenticandosi di quelli che sono aspetti a mio modesto avviso fondamentali di economia e finanza. Quindi ci sono queste tre variabili da tenere in considerazione ma per quanto riguarda i nostri BTP c'è davvero un allarme? Beh chi ha a memoria del 2011 le situazioni erano ben diverse, ben diverse. C'era sicuramente una crisi ben più forte all'interno dell'area euro. Parlare oggi di allarme sui nostri BTP è davvero infondato a mio modesto avviso e quindi si può scegliere di investire, si può scegliere di speculare sui nostri BTP. Chiaramente dipende dalla vostra propensione al rischio. In ottica di investimento si può andare semplicemente a vedere quella che è la cedola. Io chiaramente prendo come benchmark di riferimento quello che è il flottuante sul nostro BTP, in questo momento leggermente al di sopra del 4,6%. Una cedola sicuramente interessante. Se torniamo indietro nel tempo, non di tanto, di circa 12-18 mesi, la cedola, o meglio il rendimento dei nostri BTP era davvero molto più basso. E quindi la domanda che magari vi potete fare è, mi posso accontentare di una cedola del genere? A voi la risposta. Per quanto riguarda invece l'ottica di speculazione, beh ci dobbiamo rifare anche ad alcuni aspetti di analisi tecnica e qua dobbiamo riprendere assolutamente quello che è il grafico dell'euro BTP Future per andare a ritrovare quelli che sono alcuni riferimenti tecnici piuttosto interessanti. Questo grafico è noto in particolare a tutti gli utenti del percorso formativo perché nelle ultime settimane e negli ultimi mesi lo abbiamo approfondito varie e varie volte trovando dei benefici piuttosto davvero proficui per quanto concerne l'analisi tecnica stessa, la reazione che ha avuto il BTP su alcuni livelli chiave e che praticamente ci ha dato sicuramente degli spunti interessanti. Come potete notare dal grafico, con uno storico molto ampio perché questo è un grafico weekly che prende in considerazione l'andamento dell'euro BTP dal 2011 in poi, ci sono dei riferimenti molto precisi, in particolare relativo alle quotazioni attuali, 108,50 è l'area di riferimento fondamentale. Questo perché nell'ultima crisi più importante, quindi quella che vi citavo anche in precedenza, 2011, 2012 e così via, proprio l'euro BTP ha fornito su questo livello, su quest'area di riferimento che ho appena citato, degli swing importanti. Chiaramente il prezzo sia dal basso che dall'alto ha trovato un vero e proprio muro su tale area, da cui poi è ripartito sia al ribasso che al rialzo e torna quindi ad essere in questo momento un riferimento, secondo il mio modesto parere, assolutamente da prendere in considerazione. Per quanto riguarda quindi la speculazione, dobbiamo cercare di analizzare, di seguire quelli che sono i movimenti, anche sui time frame chiaramente inferiori per quanto riguarda il tutto e per cercare comunque sia di prendere eventualmente una posizione secondo quella che è una vostra strategia di investimento, noi lo chiamiamo protocollo operativo, insomma qualcosa che comunque sia vi faccia stare tranquilli e che non vi crei stress per quanto riguarda una eventuale posizione aperta. Tecnicamente comunque tornando al grafico, 108,50 è un'area sicuramente di demarcazione importante, al di sotto della quale ci potrebbero essere ulteriori allunghi, qualora fossero a ribasso tale livello, di circa due figure in due figure. 106,50, 104,50 potrebbero essere eventualmente gli ulteriori step ribassisti e chiaramente in quel caso ci potrebbe essere un allungo del rendimento del nostro BTP, credo verso area 5% almeno, mentre se e qualora ancora una volta l'area dei 108,50 dovesse fornire da supporto, frenare questa corsa ribassista, ci sarebbero sicuramente delle possibilità anche di speculazione al rialzo secondo quelli che sono eventuali segnali di analisi tecnica sul prezzo e lì come potete notare dal grafico ci sono altri livelli da tenere in considerazione, 111,50, 114,117,85, vi vorrei invitare facendo anche un focus un po' più, un meglio uno zoom, un po' più sul breve termine, come abbiano lavorato i prezzi su tali livelli. Quindi cerchiamo sempre di mantenere la calma per quanto riguarda i mercati finanziari, anche per quanto riguarda in particolare i nostri titoli di Stato, cercando di dondare adito a quelle che sono un po' le voci di stampa, i titoloni di giornale e così via. Noi qua sul nostro canale YouTube cerchiamo sempre di fare informazione oggettiva, prendendo in considerazione quelli che sono i dati a nostra disposizione, trovate sul nostro canale YouTube tantissimi approfondimenti, tanti altri li trovate sul nostro canale Telegram, le iscrizioni sono completamente gratuite. Spero anche in questo video di avervi dato ulteriori spunti di riflessione utili per quelli che sono le vostre view di investimento o speculazione. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like ed infine permettetemi ancora una volta di ringraziarvi anticipatamente, di augurarvi una buona giornata e io come sempre vi aspetto al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.